Una grande comunità che domenica 9 giugno si ritroverà per festeggiare 60 anni del basket femminile Porcari, un club che a dispetto dell'età è più vivo e vitale che mai. Ci saranno non soltanto i bambini e le bambine del mini basket, le ragazze del settore giovanile e tutte le loro famiglie, ma anche le atlete dei decenni passati, quelle che vinsero il titolo italiano nei giochi della gioventù del 1969 e quelle che giocarono la 2 nel 1996. Suor Giuseppina Nicolussi, memoria storica del Sodalizio, ha più volte avuto modo di raccontare come nacque il basket femminile Porcari nell'ormai lontano 1964. Educare anche attraverso il basket è la missione che a Porcari viene portata avanti ancora. La festa di domenica 9, che inizierà intorno alle 18, sarà preceduta nel corso della settimana da una serie di eventi che vedranno avvicendarsi sul parquet del Palasuore alcuni degli allenatori più importanti del basket femminile. Lunedì 3 giugno sarà la volta di Salvatore Cesaro, Fibacocci, ma anche preparatore atletico che terrà uno stage alle giocatrici della prima squadra che da poco hanno concluso il campionato di Serie C. Sempre alla palestra di Via Carrara, mercoledì 5 toccherà Beppe Piazza e venerdì 7 a Mirko Diamanti, tra i protagonisti dello storico scudetto 2017 del basket Lemura Lucca. Per quanto riguarda la festa di domenica 9 giugno, lo spirito sarà quello di celebrare 60 anni e chi in qualche modo è stato ed è protagonista di questa lunga e fantastica avventura. Buon compleanno, basket femminile Porcari.